Giulio Ricciò, De Magistris è un nome che si fa, voi sareste prospiti a sostenerlo come Sinistra Libertà? Non ha partecipato a quale? Guardi, noi alcuni mesi fa abbiamo provato esattamente a sollecitare anche l'Italia dei Valori per stare dentro il percorso delle primarie, che significa essere capaci di costruire partecipazioni della città, sapendo che la partecipazione non è qualcosa che si decide a tavolino, la partecipazione è favorire che la gente possa esprimersi e decidere insieme alla politica quali devono essere le sorti della propria città e farlo senza riserve mentali. In realtà anche quando abbiamo chiesto a De Magistris di stare dentro questo percorso siamo rimasti molto delusi, rimasti delusi noi, molti cittadini che in qualche modo chiedevano che ci fosse una partecipazione dell'IDV dentro il quadro delle primarie, perché si è visto un po' questo essere resti come se ci fosse un calcolo di partito, che in qualche modo venisse utilizzata la figura di De Magistris, che sicuramente è un leader di primo piano, per dare visibilità all'Italia dei Valori in quanto tale. L'abbiamo visto soltanto nelle iniziative dell'Italia dei Valori, eppure ci eravamo spesi con la partecipazione di Nichi direttamente per aprire un'idea di partecipazione della città. Poi abbiamo visto un calcolo di bottega, non ci ha convinto questa cosa. Oggi ritornare su una candidatura annunciata che non diventa mai realtà, come se fosse si fosse alla ricerca di segnare il posto con un cappello, come se il nome di De Magistris dovesse servire a sottolineare quello dell'Italia dei Valori, ma noi vogliamo costruire una coalizione fatta di donne e uomini innanzitutto e poi di partiti. E poi, permettimi di dire una cosa, anche sulla vicenda dell'Udc, io non penso che il tema vero, certo, se io potessi interrogare i telespettatori del centro-sinistra, sono convinto che i telespettatori del centro-sinistra ci direbbero fate prima l'accordo tra i soci fondatori del centro-sinistra, poi vediamo il resto. Io però non ho una riserva mentale, neanche nei confronti dell'Udc. Voglio capire l'Udc a Napoli cosa pensa della gestione del sistema idrico integrato, se deve essere pubblico o privato, voglio capire cosa pensa del piano regolatore, voglio capire che cosa pensa di come si fa sviluppo in questa città, voglio capire cosa pensa della sanità campana e come la vuole gestire. Parliamo di questo, perché se su questo si trova un'intesa, penso che nell'interesse della città si possa fare anche tra i soci fondatori del centro-sinistra e l'Udc uniti d'accordo per Napoli. Grazie a Napagano, invece a lei chiedo se Paolo Mancuso fosse indicato come candidato a sindaco, lei che cosa direbbe? Ma io, intanto noi ci muoviamo nello schema sostanzialmente di ritrovare un nome condiviso, quindi non è che decidiamo noi il nome o comunque... Potrebbe essere proposto però. Potrebbe essere proposto Paolo Mancuso, io non sono dell'avviso che ci siano candidati di serie A e candidati di serie B. Cantone, per carità, è un nome, come dire, che è venuto immediatamente alla ribalta. Metterebbe tutti d'accordo ma diciamo che non è disponibile. Cantone, per il momento, pare che non sia disponibile, ma prima, adesso siamo in un altro momento, cioè noi dobbiamo sempre distinguere... Ma la città è sempre la stessa. Sì, ma i momenti della politica sono diversi. E lui nella lettera dice che io non mi sento l'altezza di governare questa città. Se lo dice come si fa, non so che cosa potrebbe cambiare dopo questo. No, un momento, Cantone dice anche un'altra cosa, dice che lui non vuole entrare in una logica di partito, che in qualche modo la candidatura di Cantone poteva essere spesa in una situazione, diciamo, di unità, e quindi era già in una configurazione diversa. Mancuso, intanto io non farei la graduatoria, no? Cantone, poi Mancuso, poi magari un altro, eccetera, eccetera. Io credo che noi dobbiamo trovare un nome. Noi siamo aperti ad un nome, adesso abbiamo deciso e detto che in questa fase, insisto, particolare, noi abbiamo bisogno di un nome condiviso non connotato, diciamo, dall'etichetta di partito. Perché altrimenti i nomi di partito li avevamo. Però devo fare un'altra domanda velocissima. Li avevamo in campo, non so se... Se Ranieri si rendesse disponibile, voglio dire... A fare che? Eh, ad essere... No, Ranieri è stato uno dei candidati delle primarie. Io l'ho sostenuto, quindi è inutile che adesso ci giochiamo, diciamo, ognuno di noi ha sostenuto un candidato. Riccio ha sostenuto Mancuso, io, Libero Mancuso, io, Ranieri, a Lodi che ha parlato prima, ha sostenuto Andrea. Tutti erano personaggi, come dire, adatti e hanno fatto una battaglia. Si ritorni allora a quel punto, alle questioni delle primarie, si dica i ricorsi, che fine fanno, quali sono gli esiti, se si vuole andare al nome del pari. Non è che possiamo andare ad un altro nome, altrimenti si rifanno le primarie. Come se ne esce? Ranieri non lo possiamo... Come se ne esce? A meno che non si sia una spaccatura all'interno della coalizione, questo non me lo auguro. D'altra parte, lo stesso Ranieri, scusate, io vengo da una manifestazione in cui Ranieri ha detto con molta chiarezza e molta serietà che se il nome è un nome, ha parlato ovviamente di Cantone, il nome è quello, è comunque un nome condiviso, sarà lui, con la parte che l'ha sostenuto, a sostenere con forza questa candidatura. Come se ne esce? Così come ha detto Cozzolino. Ma innanzitutto superare, diciamo, le divisioni e quindi con la ricerca di un nome nuovo, diciamo, che possa tenere dentro anche lo spirito delle primarie. E poi lo dico usando una parola cara a Raffaele Cantone, il centrosinistra non ha bisogno di gattopardi, ha bisogno di una scelta netta e di cercare una donna o un uomo che in qualche modo possa incarnare la voglia di cambiamento che c'è in questa città. Io sono convinto, con le parole di Graziella Pagano, diciamo che adesso è il momento di andare oltre un fatto che ci siamo lasciati alle spalle. Lo ridico perché ne sono convinto, la giornata di ieri a Roma come a Napoli ci aiuterà a fare questo. Nei prossimi giorni i gruppi dirigenti hanno una responsabilità, diciamo, rappresentare quello che abbiamo visto, chi nelle piazze e chi dà lo schermo della televisione. Bene, bene. Graziella Pagano, Giulio Riccio, due amministratori della nostra città, il bocca al lupo a loro, il bocca al lupo al Partito Democratico che sicuramente saprà fare sintesi, ritrovarsi se vuole vincere questa battaglia, dovrà trovare sicuramente una soluzione. Io sono convinto che tutti insieme si possa uscire poi magari con un colpo, forse anche a sorpresa, a ritrovare serenità e ambizione. Soprattutto coraggio di voler governare questa città, che è la cosa più importante e che conta. Grazie a Giulio Riccio, grazie a Graziella Pagano. Grazie a tutti. Torniamo con Diritto al Futuro la settimana prossima. Grazie ai nostri tecnici. Buonasera. Grazie a tutti.